Il Ponte di Terra tiene conto delle potenzialità attuali dei porti più importanti che abbiamo in Italia e in particolare nel centro Italia. Ecco dalla proposta shock di Confindustria e Ance che ha commissionato all'ingegner Cardinali, impegnato a suo tempo presso la provincia di Arezzo, uno studio sulle infrastrutture strategiche nel territorio della provincia di Arezzo, la situazione attuale e le prospettive per il prossimo quinquennio perché tanto dovrebbe durare il mandato di Regione Toscana e Comune di Arezzo. Nel dossier sono esaminate le infrastrutture a rete e lineari come le strade di grandi comunicazione. Inutile dire che su queste la Due Mari occupa lo spazio più importante, ma in questo studio è appunto contenuta una valida alternativa. Per valorizzare il trasporto merci che oggi avviene soprattutto via mare con le navi veloci, si chiamano autostrade del mare, che vanno dalle coste iberiche, francesi, tunisine e algerine verso il nord o l'est Europa, noi pensiamo sia molto importante che si crei un ponte di terra fra Livorno e Ravenna, con Arezzo al centro che dispone fra l'altro di un centro merci ancora da qualificare come quello di indicatore e quindi puntare le risorse per valorizzare questo tipo di corridoio trasportistico. Nel dossier anche la valutazione del completamento dello scalo merci di indicatore e la relativa variante. Lo scalo merci di indicatore più esattamente è realizzato all'80%, mancano collegamenti ferroviari e stradali, quindi bisogna che l'impegno nel quinquennio di dare voce a questo che è uno dei quattro scali merci riportati nel piano regionale integrato mobilità e trasporti, tenendo conto che i due più grandi ovviamente sono Prato, Gonfienti e Livorno-Guasticce, da cui possiamo passare tramite quel corridoio Livorno-Ravenna che noi abbiamo autotizzato. Sulla stazione Media Etruria invece la possibilità che venga chiusa entro i prossimi cinque anni è davvero esigua. È un bel progetto, è un progetto che non so se si riuscirà a portarlo a compimento nei cinque anni. Io credo che forse sarebbe molto meglio spendere poche lire, poche centinaia di migliaia di euro per mettere a norma la nostra stazione di Arezzo e chiedere a chi gestisce il servizio di treno veloce di far fermare due coppie di treni, perché voi pensiate che i treni per fermarsi ad Arezzo perdono 15 minuti totali circa e invece se noi facessimo un'altra fermata tipo Media Etruria perderebbero 12 minuti. Dunque tre minuti di differenza non sono poi un'enormità.